da zain oggi mi trovo qui a villa spada e volevo parlarvi di un film che si chiama il declino dell'impero americano e fare delle riflessioni in merito il film inizia con un lungo piano sequenza e adesso ne farò uno anche se non c'entra niente per farvi vedere le meraviglie di questo posto in decadenza e intanto parlarvi del film lungo piano sequenza inquadra un aeroporto quindi c'è proprio la sigla iniziale e con una bellissima musica di sottofondo e poi conduce a questo piano sequenza conduce poi all'intervista che viene fatta tra due personaggi del film i due personaggi sono l'intervistatrice che è sempre amica della intervistata e l'intervistata che è una docente di storia dell'arte che anche rettore del dell'università l'intervistatrice chiede di parlare del suo ultimo libro che ha scritto che è il cui titolo è le varianti della felicità in questo libro che cosa sostiene l'intervistata la docente sostiene che praticamente la felicità umana è inversamente proporzionata diciamo al livello di che raggiunge una determinata civiltà fa l'esempio per esempio dell'antica roma dove il senso di diciamo di unione familiare di intimità dei rapporti di coppia è arrivato a nel momento quando c'era diocleziano c'è un momento in cui la civiltà romana stava decadendo e quindi quali sono cioè adesso perché le persone stanno inseguendo la propria felicità personale proprio perché la 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 civiltà sta decadendo vedete qua ci sono rovine abbandonate che stanno decadendo e di cui nessuno si occupa e stanno pian piano cedendo all'incuria del tempo infatti quali sono i sintomi del declino di questo impero americano perché adesso individui stanno rincorrendo in maniera anche un po vana la felicità perché ci sono questi sintomi ad esempio la mancata dire una mancanza di rispetto per le istituzioni vedete oppure anche per gli altri per inseguire la propria felicità personale dopo aver fatto questa intervista in cui parla proprio del declino dell'impero americano e del fatto che proprio in un'occasione del declino di una civiltà di questa civiltà le persone stanno inseguendo una felicità diciamo personale in ogni modo anche disprezzando le istituzioni come per esempio la famiglia lo stato la ognuno diciamo diventa in qualche modo individualista e questo è il sintomo del declino di un impero perché se pensiamo agli imperi del passato l'impero greco l'impero romano a un certo punto si sono ampliati talmente tanto che sono praticamente implosi su loro stessi perché è difficile mantenere un impero così grande per lungo tempo e quindi è forse giunto anche il momento che anche l'impero americano che si fonda proprio sul colonialismo sulle colonie sull'esportazione di un certo modello di famiglia di vita che è borghese capitalista progressista liberista insomma che è un modello che è sempre di più sta dimostrando le sue falle infatti cosa succede a queste a queste famiglie il seguito del film inquadra due diverse situazioni gli uomini e le donne che si confrontano tra loro le donne si confrontano tra loro in palestra per esempio mentre fanno le loro attività fisiche parlando delle loro esperienze sessuali in particolare di come tradiscono i loro mariti o di come passano da un partner all'altro e parlano solo delle avventure dal punto di vista sessuale concepiscono gli altri uomini come degli oggetti con cui insomma avere delle esperienze sessuali e nient'altro insomma e tra l'altro anche tra tutti quelli che si conoscono diciamo ci sono stati un po di scambi sessuali c'è solo louise diciamo che quella un po più fedele al marito che sa che il marito remy che è un personaggio che poi ricorrerà in tutti gli altri film di questo regista denis arcano sia le invasioni barbariche sia la caduta delle dell'impero americano quindi le donne si confrontano sulle loro esperienze sessuali anche insomma abbastanza che diciamo promiscue insomma e anche gli uomini mentre stanno preparando la cena in un posto di campagna dove poi li raggiungeranno le rispettive mogli amiche consorti amanti quello che è parlano delle loro esperienze sessuali del loro di come ne hanno bisogno remy dice proprio prima di andare da mia moglie di fare magari sesso con lei ho bisogno di incontrare qualcun altro di fare sesso anche con quest'altra insomma quindi anche gli uomini parlano con grande naturalezza schiettezza delle loro esperienze sessuali tra l'altro tra di loro c'è anche un uomo sessuale che racconta di come va in questi luoghi di incontro a cercare esperienze sessuali occasionali in cui si è preso anche una malattia e intanto cucinano e parlano con molta naturalezza delle loro esperienze sessuali ma poi arriva questo personaggio un po strano questo coatto questo personaggio che sembra un po decontestualizzato che ha una relazione molto sadomaso con una cittadina di queste donne e li ascolta praticamente lui non interviene molto sembra anche una persona un po mentre loro sono tutti studiosi acculturati ne sanno di storie di filosofia eccetera questo sembra proprio un ignoratore però mette li metterà poi di fronte ai ai loro limiti infatti poi quando a un certo punto torneranno le mogli che cosa succederà arriva questo questo coatto ne diciamo e che li mette un poi in a disagio no perché ci sono proprio dei momenti di imbarazzo dove questo arriva intanto loro continuano a parlare fare le loro battute e poi il coatto ne a un certo punto dirà beh scusate avete parlato di sesso di figa fino adesso e adesso state qui a parlare a perdere tempo io pensavo che avreste fatto un'orgia che avreste fatto allora insomma prende la sua compagna e se ne vanno e intanto continua il discorso e la dominica la rettrice universitaria che è stata intervistata all'inizio comincia a dire le sue teorie negative sulla decadenza della civiltà sul fatto che insomma non non ci sono molte vie d'uscita che insomma la sua visione pessimistica e allora la moglie che invece un po più idealista quella che non tradisce il marito che ci ha provato ma non c'è riuscita infatti ha ascoltato ridendo ai discorsi delle amiche però non non ha avuto molte esperienze diciamo extra coniugali perché ancora una visione un po' demodè un po' diciamo antica della coppia unita nel bene e nel male insomma si oppone a questa disgregazione dei legami però quando poi la contesta la sua amica rettrice insomma la sua amica li dice beh però insomma io sono stato con tutti gli uomini che sono qui presenti compreso tuo marito un sacco di volte e loro mi hanno sempre dato ragione quindi lei se ne va tutta offesa e scopre poi perché ascolterà altre sue conversazioni che il marito l'ha praticamente tradita con tutte le donne che conoscono insomma ripetutamente in ogni possibile modo e quindi questo li crolla un po' però poi alla fine c'è una specie di con cioè non si sa se questi due si riconcilieranno o meno però c'è comunque una una visione diciamo della decadenza della società borghese no della disgregazione dei legami della della superficialità con cui si instaurano e si distruggono legami basati su cioè sembra quasi una farsa no se vogliamo questo film è del 1986 arriva 16 anni dopo il fascino discreto della borghesia dove anche questi borghesi diciamo cercavano di fare un pranzo di fare una festa ma non ci riuscivano mai perché c'erano scasto strane cose che succedevano e alla fine si rendono conto che è tutta una farsa insomma che tutta una messa in scena c'è quasi una una recita che si sta facendo su un teatrino che che ormai in disuso insomma non so come dire è quello che verrà poi messo in rilievo anche dal film bellissimo teorema di pasoni dove basta una persona che si introduce in una famiglia piccolo borghese no medio alto borghese per far crollare tutto per distruggere tutto denis arcano è un registro del chebec del canada quindi canadese che il canada è sempre stato uno stato satellite dell'america quindi ha sempre vissuto diciamo l'impero americano come stato satellite come influenza sulla cultura perché se noi ci rifacciamo a gramsci una cultura che se vuole esercitare un certo tipo di egemonia la fa da due punti di vista come direttrice direttore diciamo e come dominio come direttore perché modifica il senso la cultura la società la famiglia le sovrastrutture marxiano e quindi certi valori come quelli del capitalismo del dell'economia degli amori fluidi usa e getta cioè tutta una cultura che con certi valori certi ideali che vengono messi in crisi anche dalla famosa fina american beauty e fa vedere benissimo come questo modello di famiglia americana perfetta è crollata e anche gli stati satelliti scono questa questa questo stesso destino infatti denir khan nei suoi primi film aveva cercato di parlare del chebec del fatto che ci fossero cioè il chebec è stato prima prima c'erano i nativi americani ovviamente poi sono arrivati francesi che li hanno soppiantati hanno forma hanno fondato la città di chebec e poi sono arrivati gli inglesi a un certo punto con la rivoluzione americana sono arrivati in inglesi che hanno cominciato a esercitare il loro dominio a volere anche non sono riusciti ad avere il potere in qualche modo perché hanno creato delle leggi in modo tale che loro in parlamento potessero avere la maggioranza e quindi c'è sempre stato il conflitto tra franco canada francofano e canada anglofono alto e basso canada e nei primi film denir khan aveva fatto di documentare dei film dove parlava in qualche modo di questa situazione che ovviamente sono stati o censurati non hanno avuto particolare successo poi finalmente arrivato questo film il declino dell'impero americano dove c'è proprio la prima il primo punto è una trilogia una sua trilogia che ha creato il primo film denuncia questa situazione il declino dell'impero americano il secondo film nel secondo fin c'è la soluzione depressiva perché il protagonista decide di protagonista sempre borghese sempre lo stesso attore che ha fatto che era remy nel primo film decide di fare una morte assistita con tutti i suoi amici quindi anche qui c'è il crollo di un mondo e poi c'è l'ultimo film che invece è la caduta dell'impero americano dove il protagonista anche lui piccolo borghese che si oppone a che vede un po la crisi della nostra società e come reagisce come reagisce impossessandoci del denaro di ottenuti lecitamente in un altro modo e dice se è interessante l'inizio della caduta dice dell'impero americano dove parlando con la sua fidanzata dice gli uomini intelligenti non hanno grande possibilità di successo nella vita perché diciamo se guardiamo alla storia di solito chi ha avuto potere successo è sempre stata gente stupida secondo il suo punto di vista infatti anche lo stesso dice critica anche sartre heidegger sartre era un stalinista secondo lui heidegger un nazista e invece chi è intelligente non è destinato ad avere successo poi lui avrà un'occasione di impossessarsi di soldi ottenuti da mafie cose illecite e nascerà tutta una serie di avventure che non vi sto a raccontare però c'è la soluzione appunto che è quella di similia similuzione sul curanto cioè cerchiamo di affermarci in qualche modo aderendo a un certo tipo di sistema che è quello capitalista che è quello in cui per avere successo bisogna avere i soldi e non c'è niente da fare nient'altra alternativa questa è la società in cui viviamo ma è una società destinata al fallimento arrivederci a tutti